Ciao a tutti, mi sento sola. Come e perché uscire? 7 consigli pratici. In questo video voglio spiegarti cosa fare se ti senti sola, quali sono dei consigli pratici per uscire, per evitare di essere sola e imparare a darti emozioni, perché è davvero molto importante imparare a darsi delle emozioni. Prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. Inoltre ti puoi abbonare al canale, abbonandoti potrai ricevere delle risposte precise, mirate alle tue domande. E veniamo al tema, mi sento sola, perché come uscire? 7 consigli pratici. Allora, sentirsi sola è sicuramente, o soli in generale, insomma, questo vale sia per gli uomini che per le donne, è sempre una sensazione spiacevole. Non è sempre facile, diciamo, riuscire a trasformare la solitudine in qualcos'altro. Ma intanto è l'atteggiamento che noi abbiamo verso la solitudine che può rovinare da un certo punto di vista la nostra vita. Nel senso che se noi ci focalizziamo sul sentirci soli, ci focalizziamo sul negativo, beh, saremo soli, diciamo così, no? Quello su cui ci focalizziamo da un certo punto di vista otteniamo. È importante approfittare del fatto che la solitudine non deve essere qualcosa di estremamente negativo, ma possiamo, dobbiamo, per superare la solitudine, imparare ad amare la compagnia di se stessi. Incontrare altre persone deve essere un qualcosa di più, ma è fondamentale imparare ad apprezzare la compagnia che abbiamo con noi stessi. Quindi, perché noi con noi stessi diciamo che non è che siamo soli, dentro abbiamo diverse istanze, abbiamo diverse cose, per cui possiamo tranquillamente stare soli, anzi, spesso stare soli è fonte di beatitudine più che di negatività. Quindi la cosa fondamentale è iniziare a capire perché ti senti sola. Fate alcune domande, perché ti senti sola? C'è un evento particolare che, un momento particolare dal quale hai iniziato a sentirti sola? Magari stai insieme ad altre persone e ti senti sola. Quali sono le persone che comunque ti fanno sentire sola? Trova una strategia, qualcosa che puoi fare per sentirti meno sola. Allora, sul perché sentirsi solo. Uno potrebbe sentirsi solo, ad esempio, perché non hai amici, o perché hai pochi amici, perché gli amici che hai non sono disponibili. O ad esempio, una persona potrebbe sentirsi sola perché sei l'unica persona singola in un gruppo di amici. Quindi tu in realtà vedi dei tuoi amici, ma sono tutti, hanno tutti un fidanzato e tu sei l'unica single. E quindi ti percepisci sola perché non hai un compagno, una compagna. In realtà non saresti sola, ma ti percepisci sola da questo punto di vista. E cerca di identificare il momento da cui ti senti sola. Cos'è capitato? Magari potrebbe essere che sei stata lasciata da qualcuno, che hai chiuso una storia. Cerca di capire. È importante capire quali sono le cause che ti hanno spinto da un certo punto di vista, che ti hanno portato ad essere sola. E poi un'altra cosa importante, un altro fatto importante è quali persone intorno a te ti fanno sentire sola. Ecco, questo è un altro fatto importante. Quali sono le persone attorno a te che ti fanno sentire sola? Perché magari ci sono delle persone che ti fanno comunque sentire sola. Ad esempio, potrebbe essere una relazione tossica. Hai una relazione sentimentale-affettiva con un uomo che però se ne è forte di te, è disinteressato e quindi tu sei sola perché stai in questa relazione, non perché è un segnale che dà la tua parte emotiva che devi chiudere con questo tipo di relazione. È importante capirlo. E poi, dicevo, è importante capire cosa fare quando ti senti sola. Beh, ad esempio, una cosa carina che uno potrebbe fare è quello di iniziare magari a tenere un diario e scrivere le emozioni che provi quando ti senti sola. Oppure magari telefonare a qualcuno. Potresti mandare dei messaggi a qualcuno. Potresti dedicarti a fare qualcosa. Ecco, questo è molto importante, no? Per cui anche parlare magari con qualcuno, scrivere con qualcuno che non è lì vicino, ma magari è lontano, è in un'altra città, è in un'altra zona, però potrebbe essere un qualcosa che attraverso la scrittura, attraverso la telefonata, attraverso i messaggi, potrebbe essere qualcuno che non ti fa... e quindi è un modo per uscire dalla solitudine. Questo è molto importante, impararlo. E poi un'altra cosa che devi comunque imparare è a goderti la solitudine. Goderti la solitudine è fondamentale perché imparare a stare con te stessa, quindi anche se sei in compagnia, che magari sei fidanzato o fidanzata, imparare a fare delle cose da solo. Vai a pranzo da solo, magari intanto fai deliberatamente una cena da solo, cerca proprio dei momenti di solitudine per allenarti comunque alla solitudine anche se sei in compagnia. È un'altra cosa da non trascurare ed è un'altra cosa molto importante. E poi un'altra cosa che eventualmente una persona potrebbe fare, e questo è molto utile per chi proprio non riesce, quella di prendersi un animale domestico. Sembra strano, ma molti animali domestici, anzi tutti gli animali domestici, chiedono di essere amati e coccolati. Per cui se prendi un gatto o un cane, avrai sicuramente un compagno fedele e quindi sarà un modo, non deve essere l'unico, però sarà un modo per prenderti cura di un essere senziente, interagire con questo essere senziente e sentirti meno solo, perché l'interazione noi esseri umani non è che dobbiamo averla soltanto con altri esseri umani. Certo, non si può interagire solo con il gatto, assolutamente no, però diciamo che può essere una modalità per avere, tra virgolette, compagno comunque di percorso di vita che può dare, può comunque dare tanto. Quindi questo è un'altra cosa da prendere in considerazione. Bene, per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramaschi, iscriviti al canale e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, abbonandoti potrai ricevere delle risposte precise e mirate alle tue domande. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo. Ciao!